ieri sera ho assistito a un pezzo della bella diretta di paolo nardi sul canale youtube the age of vikings e si parlava di draghi l'argomento erano i draghi poi paolo da grande esperto tolkeniano ho visto che ha fatto una disamina su smaug poi ho dovuto ho dovuto chiudere perché anch'io dovevo registrare dei video però era tutto molto interessante e nei commenti scorrevano altre citazioni di vari nomi e di vari fonti di queste creature che anch'io trovo molto affascinanti tra le più affascinanti sicuramente del mondo del fantasy ma anche del mondo mitologico allora adesso ben lungi da me l'idea di parlarvi di draghi dopo che l'ha fatto paolo perché non sono all'altezza anche se ho amato i draghi nella mia carriera precedente di video di giocatore di ruolo e di sì anche di videogiocatore perché c'era tyrant traxxus il drago mostro finale del gioco di ruolo per pc 486 pool of radians poi c'era anche il modulo d'avventura cartaceo di pool of radians però io l'ho giocato prima di tutto come videogioco e poi mi sono ho sempre letto cose di draghi ho scritto anche qualche racconto di draghi anche qualche racconto lungo qualche novella insomma l'argomento mi piace ma non ho assolutamente la competenza tale da potervi fare un discorso un video più interessante di quello che che già stato mandato in diretta ieri sera però mi è venuto in mente sono andato a cercarlo proprio grazie ad aver visto questa diretta sono andato a cercare un libricino illustrato pubblicato dalla osprey osprey adventures la osprey è una casa editrice inglese che produce un sacco di cose fighe soprattutto manuali su strategia arte militare su storia militare poi anche avevo questa collana appunto sulla mitologia e adesso sta producendo un sacco di cose relative ai giochi di ruolo e agli wargame alcuni li ho già esaminati qui nel canale alcuni arriveranno perché me ne sto procurando uno in particolare un altro sta arrivando ma questa è un'altra storia io volevo parlarvi di dragon slayer from beowulf to san george la collana ai miti e leggende della osprey eccolo qui vedete questi manualetti ce ne sono diversi io ne posseggo alcuni sono manualetti sottili che non costano neanche poco questo l'avevo pagato 17 18 dollari però sono davvero delle chicche sono delle mini enciclopedie monotematiche qua si parla di draghi chiaramente ma va e si va dagli antichi ammazzadraghi quindi da quelli per esempio della mitologia greca gesone gli argonauti poi vabbè vi dirò che queste illustrazioni sono davvero splendide sono stato il principio il principale motivo d'acquisto di questi volumetti abbiamo ercole ercole l'idra insomma si va appunto dagli ammazzadraghi dell'antichità poi si passa ai draghi della tradizione norrena quindi quelli vichinghi abbiamo sigfrido chiaramente anche qui diverse tavole tutta la storia è in inglese attenzione è in inglese e poi passiamo agli ammazzadraghi e i draghi della cristianità intanto vi mostro ancora qualche tavola dei draghi norreni guardate che belle queste tavole ok poi abbiamo appunto i draghi della cristianità gli ammazzadraghi della cristianità tra cui appunto san michele san michele l'uccisore del drago qui drago visto come anche manifestazione del male del demonio guardate di nuovo la bellezza la bellezza estrema di queste illustrazioni e poi andiamo avanti e arriviamo agli ammazzadraghi medievali con tutte le loro leggende dedicate e altre altre illustrazioni assolutamente belle il libro non è molto grande e esaustivo nel senso che vi dà un'infarinatura di tutte le principali leggende e mitologie che riguardano queste bestie facendo anche degli accenni sui draghi del resto del mondo che siano quelli dei nativi americani quelli orientali che meriterebbero un libro a sé chiaramente qui ci sono degli accenni draghi cinesi draghi giapponesi e poi una bibliografia selezionata e poco altro il libro è piccolo ripeto però c'è queste splendide illustrazioni a opera di peter dennis che ha illustrato altri libri della osprey sono veramente belle a colori giustificano il prezzo non proprio cheap però molto bello anche come supporto nel caso giocate di ruolo certo ci sono dei compendi assai più completi sistema per sistema ma questo dà ha degli spunti generici per avventure che riguardino appunto la figura del drago insomma un libretto che vi consiglio di recuperare se amate questi argomenti e poi vi consiglio appunto di seguire sempre paolo e di seguire anche il canale d'age of vikings io non lo conoscevo mi sono appena iscritto devo dire che è molto interessante insomma vi lascio un po di link un po di tag e se vi è piaciuto il video al solito vi chiedo un like e magari un commento e iscrivetevi anche al mio canale telegram e al canale telegram dei lost boys dove a volte mettiamo dei contenuti extra e dei libri in offerta su amazon io vi saluto e vi auguro una buona lettura e dei buoni draghi a tutti